Sono Marco De Vito, un nuovo giocatore del Monopoli Calcio. Io cresco nel settore giovanile del Chievo, dopo ho fatto una parentesi a Marsala in Serie D, dopodiché ho deciso di trasferirmi all'estero calcisticamente. Ho fatto un anno in Serie B in Croazia, dopodiché mi si è aperta una pista di Serie A in Slovacchia, dopo ho fatto due anni e mezzo in Slovacchia in Serie A lì. Dopodiché l'anno scorso per alcune problematiche contrattuali che avevo con questa squadra, ho trovato squadra e sono andato nella Folgore Caratese nel girone B della Serie D. Adesso sono qui a Monopoli e pronto a mettermi a disposizione della squadra con tanta voglia di far bene.